... Buongiorno, benvenuti a questo nuovo incontro della Mangiagalli Journal Club. Il titolo di questo incontro è I tumori ginecologici nella donna desiderosa di pole, che fare? L'oncologia moderna non si occupa più soltanto di curare i tumori. Si occupa di tornare alla normalità, di garantire al paziente un ritorno alla normalità. Quindi ci si è concentrati sempre di più su quello che è la qualità della vita una volta superata la malattia. Ed è chiaro che in questo campo la fertilità, quindi la possibilità per una donna o anche un uomo di tornare, di poter avere dei bambini, è un aspetto molto importante. Al punto che in questi ultimi 20 anni si è proprio sviluppato un'area a sé che si chiama Oncofertilità, che ha avuto grandi sviluppi sia con le tecniche sia con la visione che ha accompagnato l'introduzione di questo nuovo aspetto. In questo incontro ci occuperemo dei tumori ginecologici, che sono un po' particolari. Prima di tutto perché i medici coinvolti, cioè i ginecologi, hanno una particolare sensibilità su questa materia, in quanto chiaramente la gravidanza è un po' il centro di tutta l'attività di un ginecologo. E in secondo luogo perché noi andiamo proprio a gestire, dal punto di vista della preservazione della fertilità, proprio quegli organi che invece sono quelli affetti dalla malattia. Quindi è un campo in cui l'oncofertilità assume alcuni aspetti veramente peculiari e specifici. Lo faremo con due presentazioni. La prima del dottor Martinelli, un chirurgo ginecologo dell'Istituto dei Timori, uno dei più grandi chirurghi ginecologici emergenti a mio avviso, che cercherà di capire fino a che punto ci possiamo spingere, fino a che punto è accettabile, condivisibile garantire la fertilità senza essere radicale. Un aspetto molto fine che come vedremo assume differenze in funzione del tipo di tumore, ma anche in funzione del paziente che è il centro della consultazione, della argomentazione sul da farsi. Io mi occuperò invece di quello che è l'utilizzo di tecniche di preservazione della fertilità e cercheremo di capire come ci si può subentrare, si può aiutare per cercare insieme di offrire il massimo per la paziente, che è il ritorno alla nominità, il ritorno ad avere un bambino. Vi ringrazio e vi aspetto.